Se da un lato la situazione riguardo i contagi da coronavirus resta stabile anche in provincia di Ragusa, dove si registra un sensibile calo nei contagi e a contempo un aumento delle persone guarite, dall'altro resta alto l'invito a non abbassare ancora la guardia, vista anche l'eccessiva e spesso ingiustificata presenza di persone in strada. Situazione invariata anche oggi all'ospedale Maggiore di Modica con tre ricoverati, tutti in malattie infettive, un ragusano di 72 anni ormai guarito e che prossimamente dovrebbe lasciare il Covid Hospital per proseguire con un periodo di riabilitazione all'ospedale Busacca di Scicli. Resta ricoverata anche una donna, oltre ottantene di vittorie, un uomo di 62 anni. Intanto, come accennato, cresce notevolmente il numero dei tamponi che l'ASP di Ragusa sta effettuando in tutta la provincia. Quasi uguale anche il numero dei tamponi con esito negativo, un dato che rassicura i test positivi dall'inizio dell'emergenza sono 132, quelli analizzati in corso invece 75. I tamponi attualmente in programmazione sono 270. Le squadre del Dipartimento di Prevenzione, preposte all'effettuazione dei tamponi, lavorano a un ritmo davvero incessante. Intanto è attesa per questo pomeriggio in Rada, a Porto Empedocle, la nave Mobizazza individuata per ospitare i prossimi migranti che giungeranno in Sicilia, a cui sarà richiesto un periodo di quarantena direttamente in mare. A comunicarlo il sindaco di Pozzallo, Roberto Amatuna, sentito con il prefetto Michele Ribari, soggetto attuatore per l'emergenza migranti.